Lo hanno pedinato in tre a bordo di una Fiat Panda Bianca, in due sono scesi, hanno percorso un breve tratto a piedi nei pressi dell'ufficio postale di Monticchio, quartiere di Manfredonia, lo hanno pestato a sangue. Poi uno dei due ha infilato la mano nel giaccone della vittima e si è impossessato di una busta da lettera contenente 18.000 euro in contanti, ma a distanza di quasi sette mesi, i due rapinatori, Michelangelo Sciannandrone, 41 anni, di Manfredonia, Giuseppe Longo, 26 anni, di Foggia, un terzo elemento in via di definizione, sono finiti in manette su ordinanza di custodia cautelare della procura firmato dal GIP di Foggia. La vittima, un commerciante, si stava dirigendo proprio nell'ufficio postale per versare il contante e la notizia è arrivata ai due rapinatori grazie a Sciannandrone che aveva spiato il commerciante nel momento in cui sigillava la busta con i soldi. Dopo aver tramortito di botte l'uomo per guadagnare così tempo prezioso, i due sono fuggiti a piedi lungo le stradine della zona per poi rientrare nella panda bianca e far perdere le loro tracce. A ricostruire l'accaduto decine di filmati ottenuti grazie al sistema di videosorveglianza delle poste è un dettaglio schiacciante. La cella del telefonino cellulare di Longo era allacciata proprio al luogo dove è avvenuta l'aggressione a quell'ora esatta e sui tabulati sono state ritrovate tracce di un paio di conversazioni con Sciannandrone.